Amici Rosa Nero, qual è il gol del Palermo che tifosi non dimenticheranno mai? Scopriamolo insieme ai nostri tifosi. Ha segnato questo bellissimo gol, quello di Nuccio, non mi ricordo quale partita, una scordiciata al 91esimo. Quello di Fabrizio Miccoli da centrocampo contro il Chievo. I gol contro il Catania. Quello di Gianni Terrosa. Contro chi? Il Verona. Contro Garella, il grande Garella, il portiere che è partita da finire a Napoli. Tutte belle sono, per me sono tutte belle. Mi ricordo uno di Miccoli contro il Milan, un bel gol che ci aveva portato alla vittoria. Quello di Cavani contro la Fiorentina, quello è indimenticabile. Da una vita che vengo allo stadio, però quello è il più bello di tutto, quello che ho visto qua. Mi ricordo i Miccoli da centrocampo a Sorrentino, nel Chievo Verona. Forza Palermo! Forza Palermo! Forza Palermo! Forza Palermo! Come un Palermo! Forza Palermo, sempre! Forza Palermo! Forza Palermo! Forza Palermo! E andiamo in alto! Forza grande Palermo e quest'anno ritorniamo di nuovo in sera. E lo dico io, e ci dovete credere. Forza Palermo! Palermo del cuore!